Il match 27 viene anticipato si preparano all'angolo rosso pagano in l'angolo angolo blu con il resto Natami 4 Prostimo incontro Cirillo, Giorgia, Clapprolete e Nandio Remercat parte a tutti Natami 4 Natami 4 Natami 4 Natami 4 Il nostro lente è stato di rivolto a spazio più stile, successivamente Nobba e Stamì, l'esitivo è un ruolo, bravo, e da ragazzo, blu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.